Ospite di passione biancazzurra, Alessandro Caporale, leader e difensore della Virtus Francavilla, ha tracciato un bilancio della stagione fin qui disputata dagli imperiali. Un anno di alti e bassi. Stiamo provando a toglierci questo problema della salvezza, perché abbiamo un obiettivo principale che è quello della salvezza e poi cercheremo di guardare il positivo. Però sì, prima di Natale abbiamo avuto un cambio di rotta. Poi ci sono diverse partite con degli episodi che ti girano contro. Quest'anno in diversi casi ci stanno girando contro molte cose. Lui, veterano del gruppo, ha raccontato anche l'importanza della sua avventura a Francavilla Fontana. Io sono nato qui, c'è due meriti al Nardò, però era ancora un ragazzino, qui a Francavilla sono arrivato avevo 23 anni, adesso vado per i 28, è nell'annata dei 28, quindi sono cresciuto qui calcisticamente come uomo, come persona, quindi devo tutto. Sabato visita un avellino a caccia del riscatto proprio come la Virtus. Una battaglia di quelle toste, che loro vengono da due sconfitte e noi veniamo da una sconfitta e dobbiamo fare punti per raggiungere il primo obiettivo che è la salvezza. Grazie. Grazie.